Perché Machiavelli? Perché Machiavelli e l'Umbria? E dunque perché questa mostra intitolata Machiavelli e il mestiere delle armi, guerra, arti e potere nell'Umbria del Rinascimento? A queste altre domande risponderà l'incontro che si terrà sabato 22 novembre alle 17.30 alla Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio di Gubbio. Alessandro Campi, Alberto Groman e Federico Mancini dell'Università di Perugia interverranno sul tema L'Umbria al tempo di Machiavelli e dei Capitani di Ventura, politica, arte, economia e società. L'iniziativa fa parte degli eventi organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparvio di Perugia e dalla Fondazione Cari Perugia Arte legati alla mostra Machiavelli e il mestiere delle armi allestita a Palazzo Baldeschi, a Perugia fino al 25 gennaio.